Questo che state vedendo è il campanile di San Pelagio, costruito sul modello del campanile di San Marco Venezia. Domina la vista della città, infatti da quassù c'è una vista memorabile e con solamente 3 euro si può vedere. Fu collocata nel 1913 sulla sommità del campanile della sede di San Pelagio, che è il patrono della città di Cittanova. Ed è stata costruita nel 1883 ed è alta ben 44 metri.